All'unisono, perché i maestri immateriali ripetono che l'uomo cesserà di essere tale quando non si identificherà più con se stesso, ma con altre creature di luce che con lui vibrano all'unisono? Commento. Perché l'evoluzione parla in frammenti, in periodi evolutivi e non in discorsi. Uno di questi primi periodi evolutivi è la condizione umana.